Buongiorno, buongiorno, oggi è mercoledì 20 gennaio, Rassinastampe in breve di Video33, nuovo appuntamento con la nostra informazione, cielo sereno su gran parte del territorio alto tesino, ancora molto freddo in regia, abbiamo Massimo Moro col suo aiuto, diamo un'occhiata alle aperture dei quotidiani che troviamo in edicola Il Corriere dell'Alto Adige, frontiere Lira di Compatcher, controlli inaccettabili, sospendere Schenken, Volontarius dice, le strutture sono comunque pronte, la riforma elettorale rischia lo stop, incognita ostruzionismo, oggi la discussione è ancora, chiese depredate, brissinese nei guai, è stato aperto il processo, energia austriaca, accordo con Terna, l'elettrodotto attraverserà Passoresi, l'assessore Tainer dice, le imprese risparmieranno, la cronaca cura del quotidiano Alto Adige, confini, Bolzano alza la voce, Austria blindata per i profughi, Compatcher passa l'attacco, cantieri fermi, il caso CLE finisce sul tavolo della Giunta e poi oggi l'ultima chance per la legge elettorale che salva Bolzano, non c'è più tempo in consiglio provinciale, agguato, picchiati due fratelli, tutto questo è accaduto ad Appiano. La cronaca linguatresca a cura del quotidiano Dolomita nel futuro dell'aeroporto di Bolzano si avvicina all'appuntamento con le urne per il referendum e poi il Dolomita in dedica spazio in apertura all'incendio che a San Candido ha distrutto un agriturismo, quattro le persone ferite nella serata di ieri. Il quotidiano Tagest Zeitung, l'attacco, le dure prese di posizione del Presidente della provincia Arno, Compatcher nei confronti del Tirolo in termini di inasprimento dei controlli delle frontiere e il settimanale VQ, il settimanale economico inserto del quotidiano Dolomita in dedica spazio al tema dei bestiame, del bestiame, tutto quello che c'è da sapere sia per gli allevatori sia per i consumatori. È tutto, vi ringrazio per aver scelto anche oggi l'informazione di video 33.